Le foto parlano da sole e descrivono cosa si vede fuori dal cinema di Silea. Sono dall'altra parte della careggiata rispetto al cinema, ma di certo non sono un bel biglietto da visita, soprattutto per chi arriva da fuori al multisala. Immagini che sono giunti in redazione da più telespettatori e che abbiamo girato i responsabili di Contarina. Siamo di fronte a un abbandono su A Repubblica, ma di grandi quantità che richiedono la collaborazione anche del Comune trattandosi di A Repubblica. Una situazione che abbiamo segnalato anche al Sindaco Piazza, che si sarebbe già attivato con Contarina. Io credo che lì sia necessaria una maggior attività di vigilanza per capire un attimo se il fenomeno va fatto risalire a bandoni casuali o è sistematico magari da parte anche di alcune utenze che sono lì vicine. Attenzione quindi furbetti, perché a breve potrebbero arrivare le prime salatissime multe. Credo che gli ecovigili del Consorzio sono in grado di valutare e anche di trovare le soluzioni più adeguate che potranno essere anche quelle delle telecamere.